Addio straziante! Paola Perego in lacrime. Paola Perego si presenta davanti alle telecamere con il volto segnato dalle lacrime. La sua voce trema mentre inizia a parlare. Oggi è un giorno molto difficile per me. Devo condividere una notizia che mi spezza il cuore. Il mio amato marito ci ha lasciati. Non riesco a trovare le parole per esprimere il dolore che provo. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili. Ogni singolo ricordo è inciso nel mio cuore. Per sempre. Il suo sorriso, la sua voce, il suo amore. Tutto mi manca terribilmente. Voglio ringraziarlo per ogni istante passato insieme. Voglio ringraziare anche voi, i miei fan, per il vostro supporto. In questo momento difficile, le vostre parole mi danno forza. Il dolore è immenso, ma cerco di ricordare i momenti felici. Quei momenti che ci hanno reso una famiglia. Lui era il mio rifugio, il mio complice, il mio tutto. Senza di lui, la vita sembra irreale. Ma so che lui vorrebbe che io continuassi a sorridere e ad andare avanti. Farò del mio meglio per onorare la sua memoria. Vi chiedo di rispettare il nostro dolore e la nostra privacy. Abbiamo bisogno di tempo per guarire. Spero che possiate capire quanto sia importante il vostro affetto in questo momento. Ogni messaggio di conforto è un raggio di luce. Grazie di cuore a tutti voi. Continuerò a vivere con il suo amore nel mio cuore, per sempre.